Oggi con il suggerimento della mia amica Ilaria, un saluto dal Vietnam, mi ha detto di postare un video quando faccio da mangiare. Sapete che io odiavo la cucina, però mi è toccato far mangiare perché siamo in lockdown e dopo è meglio mangiare a casa che non andare sempre in ristorante. Guardate che sughetto ho fatto, pomodoro e ho messo dentro un po' di sugo al pesto, guardate. E oggi sto facendo i miei, ho trovato fuori anche i tortellini, vai! Ecco a voi i tortellini fatto dal cuoco principante. Principiante, non sbagliarti sempre. Un po' di piccante, un pizzico di grana padano, come vedete, tac, tac, e buon appetito!